Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale oggi ascoltiamo Marcelito Pomoi, credo si chiami così me l'avete consigliato in diversi, è un cantante filippino qui ci presenta The Prayer, una canzone famosissima cantata in originale da Serene Dion, Andrea Boccelli quindi anche difficile di interpretare una canzone cantata da due mostri come loro e vediamo un po' cosa ci presenta Marcelito ovviamente interromperò la canzone spesso per fare un po' un'analisi di quello che vedo, di quello che sento se volete sentire la canzone in originale o meglio, senza alcuna interruzione lascio il link in descrizione ascoltiamo and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know let this be our prayer when we lose our way intanto una cosa sta cantando non in falsetto perché se un uomo canta in falsetto si sente che la voce diciamo è finta cioè falsetto si chiama così perché appunto è un po' falsa cioè cerca di imitare una voce femminile invece se noi chiudiamo gli occhi sembra veramente che stia cantando una donna proprio anche come timbro andiamo avanti anzi altra cosa che voglio dire se non sbaglio è la stessa tonalità dell'originale vediamo un po' se riusciamo a pescare l'inizio sentiamo l'originale è proprio la stessa tra l'altro sentite come lui imita anche la voce di Celine Dion quindi non solo la stessa tonalità ma anche lo stesso stile si vede che lui appunto sta facendo proprio una cover di questa versione andiamo avanti come when we don't know let this be our prayer when we lose our way lead us to a place guide us with your grace to a place where we'll be safe la luce che tu dai I pray you'll find your life nel cuore resterà sembra veramente che siano due persone differenti cioè se chiudiamo gli occhi siamo sentiti davvero un uomo che canta e una donna che cantano veramente differenti le due voci usate andiamo avanti in hold within our heart a ricordarci who stars go out each night el terna stella sun veramente veramente incredibile intanto lui è molto rilassato non so come faccia a cambiare così rapidamente perché lui cambia non solo cambia tonalità quando fa la voce maschile e la voce femminile ovviamente, che già non è facile ma cambia anche stile ed è quello che ci dà la differenza che ci fa pensare che siamo due persone differenti se ascoltassimo a occhi chiusi perché quando fa la voce maschile di Bocelli è molto operistica quella impostazione tanto che, secondo me, ma non lo so, ditemi voi può darsi che abbia avuto un'educazione vocale di tipo operistico quindi, stile operistico quando invece canta nella voce di, diciamo, di Celine Dion cioè la voce femminile è assolutamente pop quindi cambia la posizione della laringe più bassa e più alta cambia l'ottava, ovviamente, in cui canta e cambia lo stile tutto in un attimo e questo cambiamento di stile questi tre cambiamenti danno veramente l'idea che siamo due persone differenti è incredibile sogniamo un mondo senza viu violenza E un mondo di giustizia e di esperanza, ognuno di la mano a sua vicina, simbolo di pace, di fraternità. E' sentito come nella parte maschile, ha fatto note molto dritte, molto potenti, stile oponistico, e quando è arrivata la parte femminile ha fatto subito la voce più pop, più di stile completamente diverso, non solo tonalità, incredibile. In waters from above, di un altro amore, we hope it's so, we'll find, in torno dentro se, another soul to love. Let this be a prayer, let this be a prayer, just like every child, just like every child. Come veramente cambia tutto da una voce all'altra. Non so come faccia, anche perché poi, come avete visto in questo fraseggio qua, cioè nelle frasi precedenti, cambia da un registro all'altro, quindi maschile e femminile, chiamiamolo così, per semplificare. Veramente in un attimo, cioè appena appena respira tra una voce e l'altra, a volte neanche respira, e quindi non so come faccia a fare questo cambiamento così repentino e così totale, perché appunto cambia tante cose in un attimo. Incredibile, sicuramente tanto allenamento e tanta tecnica, ovviamente. Needs to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Wish Closet Quest'ultima nota, tra l'altro, è molto difficile perché quando noi cantiamo, come in questo caso, l'ultima nota è lunga bisogna avere il fiato per mantenerla costante dall'inizio alla fine ma in questo caso la nota parte in un certo modo poi passa un tono superiore e ancora un tono superiore fa tre passaggi ogni volta che alziamo il tono dobbiamo mettere più fiato del pezzo precedente per farlo suonare nello stesso modo il tono successivo è ancora più alto, è ancora più fiato quindi dobbiamo già partire con il fiato sufficiente quindi dobbiamo utilizzarlo per gradi sapendo che nella parte successiva alla prima dovremo averne di più e in quella successiva ancora dovremo averne ancora di più per spingere con la nota quindi bisogna veramente avere una bella tecnica, aver studiato bene incredibile questa esibizione io non vedo ora di sentire altre canzoni sue appunto per vedere se ancora mixa le due voci o cosa farà vedremo, questa è la prima volta che lo sento ovviamente quindi vi ringrazio per il consiglio ovviamente condividete il video se volete mettete nei commenti la vostra impressione e datemi anche altri consigli su altre canzoni sue o di altri cantanti ovviamente iscrivetevi al canale mettete un like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti